Noto, un articolato carico di merce ha preso fuoco nel tratto autostradale Avola Noto. Momenti di panico, ieri pomeriggio sull'autostrada Siracusa Gella all'altezza del svincolo per Noto a causa dell'incendio di un auto articolato. L'episodio è avvenuto per causa del tutto accidentale, dovuto a un guasto meccanico, un tir carico di merce ha preso fuoco nel tratto Avola Noto. Il conducente del mezzo pesante, non appena si è accorto dell'inconveniente, ha rallentato la marcia, ha parcheggiato lungo il bordo dell'autostrada e ha avuto il tempo di abbandonare il camion che era avvolto dalle fiamme. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco del distaccamento di Noto che hanno spento fatiche alle fiamme. Il rogo ha distrutto il camion ma, per fortuna, non ha coinvolto alcun veicolo in transito in quel tratto autostradale.